Amici 2018 Il serale, previsto per sabato 7 aprile. Iprama dovrà preparare in questi giorni i suoi nuovi inediti un giorno in più, e che ne sai, tutto l'amore che ho di giovanotti, almeno tu nell'universo di Mia Martini, e e penso a te di Lucio Battisti. Emma Muscat potrebbe invece esibirsi sabato con Ciao Adios di Anne e Marie, fotografi di El Sheeran, Vanità di Giorgia, Asuka e i full of stars dei Coldplay e i miei immortali degli evanescente. Zeke dovrà preparare i suoi inediti capodanno e perché sono rimasto da solo, ancora di decrescenzo, talchimbo a utare voluti ogni tra chi capman e piccola stella senza cielo di ligabile. Per quanto riguarda i ballerini invece Garrison ha affidato le sue coreografie a Filippo e Valentina, mentre Veronica Peparini farà ballare i suoi preferiti Daniele e Luca. Durante il Daitime di Oggi mandato in onda su Canale 5, due studenti sono stati attaccati dai professori. La prima è stata Sephora, il secondo Zik. Amici 17, anticipazioni 7, aprile. Le esibizioni dei Bianchi e dei Blu La ballerina di Amici 2018 è stata criticata aspramente da Garrison il quale ha affermato quanto segue. Sephora in lacrime si è sfogata dichiarando che ci sono vari modi per dire una critica, ma questa volta il coreografo ha superato ogni limite. Infine la pupilla di Alessandra Celentano ha affermato di non sentirsi affatto una M e Asterisco Asterisco A, come invece ha voluto dire tra le righe Garrisoni. Anche Carlo Di Francesco non è stato affatto carino con Zik. Secondo l'insegnante di canto il giovane è bravino nello scrivere, anche se non sarà mai il nuovo De Gregori, mentre nel cantare non riesce a trasmettere nulla. Il cantante si è guadagnato dal professore un 5. Durante la puntata di ieri sono state svelate le esibizioni dei Blu, il nuovo meccanismo e gli ospiti della prima puntata del serale. Esso è stato diviso in tre fasi. Nella prima il potere decisionale sarà nelle mani della commissione interna, composta dai professori, nella seconda nelle mani del pubblico, e nella terza nelle mani della commissione esterna, composta da Simona Ventura, Alessandra Amoroso, Erma Almeta, Marco Bocci, Giulia Michelini e Ater Parisi, a cui potranno accedere soltanto pochi.